In questi giorni sto riflettendo su un aspetto che mi sembra importante per chi scrive e per la scrittura in generale. Noi sappiamo sempre, con molta chiarezza, almeno così dovrebbe essere, che cosa stiamo facendo, qual è il genere a cui ci dedichiamo, che tipo di storia vogliamo scrivere. Sappiamo anche, questo è un passo ulteriore, il come intendiamo a farlo, quindi se ci diamo un metodo, se abbiamo un tempo e un luogo della scrittura. Spesso però sono in pochi ad avere ben chiaro il perché fanno quello che fanno, il senso di quello che fanno. Questo è un obiettivo che va oltre il voler fare un libro, il voler pubblicare un libro. Questo significa avere ben chiara la propria strada di autori, di scrittori. Io penso che anche alla scrittura e a un atto così importante, uno strumento così grande come la scrittura, per il potere che la scrittura ha, dovremmo avere questo ben chiaro. La scrittura può essere ricerca di bellezza, può essere un messaggio importante che abbiamo in noi e che passa attraverso la nostra scrittura, può essere anche un impegno a rinnovare la società. Ci sono tanti ideali che possono essere legati alla scrittura. Ognuno di noi, ogni autore, trova il suo dentro di sé e trovarlo e applicarlo al nostro lavoro dà al nostro lavoro una profondità incredibile. Su questo rifletteremo anche nei prossimi due incontri che farò e che saranno il 6 maggio a Novara e il 7 maggio a Milano. Se vuoi saperne di più trovi tutte le informazioni sul mio sito alessandraperotti.com e puoi anche contattarmi, come sai, per qualsiasi informazione. Però davvero riflettiamo su questo aspetto, è molto importante. Buona giornata!